progetti per il futuro firmata la convenzione dal comune di orte per uno studio sulle possibilità di sviluppo logistiche e di trasporto arriva carnevale anche ad orte si prepara la festa romanzo storico per barbara frale con il suo i sotterranei di notre dame scala le classifiche una simbiosi tra storia e racconti ben trovati amici telespettatori ad un nuovo appuntamento con il tg magazine è stato firmato ieri in comune l'accordo per una convenzione con l'università degli studi di roma la sapienza ed il comune di orte per uno studio sulla logistica e di trasporto dell'area di orte il centro di ricerca per il trasporto la logistica dell'università degli studi di roma la sapienza ha già condotto per conto della regione lazio questo tipo di studi e sta redigendo il piano che costituisce lo strumento principale di pianificazione regionale finalizzato a riequilibrare le diverse e talvolta contrapposte esigenze degli enti locali premiando quegli enti che privilegiano politiche volte a favorire il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile sentiamo le nostre interviste uno studio per quanto riguarda la logistica e i trasporti qual è il contenuto praticamente quali saranno le coordinate di questo studio? questo studio riguarderà le potenzialità logistiche del territorio di orte quindi sarà rivolto a valutare appunto la possibile domanda di servizi logistici al tempo stesso sarà fatta una valutazione del possibile interesse da parte di aziende di investitori nazionali e internazionali di localizzare questi servizi in questo territorio uno studio simile è già stato fatto a livello regionale e che cosa c'è da aggiungere in più per questo territorio? a livello regionale è stato fatto ed è in corso il piano regionale del trasporto delle merce e la logistica della mobilità che è stato elaborato appunto dal nostro centro di ricerca e da aggiungere c'è capire la specializzazione del territorio perché parlare di logistica in questo scenario in cui ci sono forti cambiamenti cioè logistica non è solo per l'industria anche per la distribuzione bisogna capire la specializzazione che questo territorio può offrire anche per il fatto che è posizionato orte in un snodo sia stradale che ferroviario per quanto riguarda i flussi nord sud ma anche est o ovest che diventano sempre più importanti. Quindi il panorama cambia a livello di progettazione proprio per la grande strategia di posizionamento della città? Sì, progettazione se intendiamo a livello sia di servizi quindi offrire servizi ma poi a delle ricature chiaramente infrastrutturali urbanistiche di pianificazione connessa quindi lo studio vedrà entrambi questi aspetti un aspetto quindi di servizi logistici a valore aggiunto necessari per la distribuzione delle merci o anche per il consolidamento della merci in questo territorio per il lancio dell'export ad esempio che sta molto crescendo da un lato dall'altro cosa comporta questo in termini infrastrutturali adeguamenti, nuovi sviluppi e anche la valorizzazione dell'esistente anche la presenza dell'interporto che sta completando sappiamo la parte ferroviaria è comunque un elemento di valore aggiunto. Benefici ricadute sono e saranno evidenti per il nostro territorio questo comporterà anche magari una rivisitazione del piano regolatore per quanto riguarda poi delle destinazioni d'uso di diversi terreni edifici che ci sono proprio per permettere magari nuovi insediamenti che lo studio indicherà di fare proprio per permettere uno sviluppo ulteriore del nostro territorio? Io mi auguro di sì, credo che questo sia prematuro. Faccio un ragionamento per la città dicendo che in un momento di ripresa dell'economia nazionale credo che questa iniziativa possa aiutarci a risolvere le soluzioni risolte del passato e di sempre che è quella di rinvestire sul territorio per nuove realtà imprenditoriali e soprattutto di creare nuova occupazione. Se questo sarà possibile è ovvio che valorizzeremo il territorio in base a quelle che potranno essere le informazioni di investimento che l'università ci darà. Però a maggior garanzia di tutto questo abbiamo l'università che dovrà indicare quali sono le aree di sviluppo e quindi crediamo che questo possa essere fatto in modo più obiettivo e più positivo possibile. Quando si potranno avere i primi risultati di questo studio per far partire una progettualità che credo si farà a breve termine ma occorrerà anche, ci sarà necessità di tempo per portarla avanti? Credo che non sia lungo, abbastanza breve, avremo i primi due step, credo entro quattro mesi. Avremo la possibilità di capire quali sono le potenzialità del territorio e quali sono eventualmente le aree di impresa interessate in investire sul territorio stesso. Dopodiché faremo le nostre valutazioni per vedere se è il caso di proseguire oppure meno. Io mi auguro di sì negli interessi di Orte e degli Ortani. Il PD di Orte segnala che da alcuni mesi sono scomparsi alcuni attraversamenti pedonali ad Ortescalo su Corso Garibaldi. Si tratta, dice la nota diramata, dell'attraversamento davanti l'innesto con la strada di Moleniano e di quello accanto al Palazzo Mele. La strada che attraversa la borgata è provinciale e comprendiamo che gli attraversamenti sono stabiliti dalla provincia, ma considerata la peculiarità della borgata che si snoda ai lati della provinciale, riteniamo che gli attraversamenti pedonali vadano intensificati e non tolti. L'assessore competente, continua il PD, dovrebbe preoccuparsi della sicurezza degli Ortani ed adoperarsi affinché le strade cittadine già carenti di marciapiedi consentano maggiore sicurezza ai pedoni, con le auto che soprattutto in concomitanza dei treni pendolari mattutini sfrecciano a tutta velocità. Il PD invita questa amministrazione ad intensificare i controlli delle auto in sosta, poiché la decisione di aumentare il costo del parcheggio di Moleniano ha indotto un ulteriore aumento incontrollato della sosta selvaggia in alcune zone dello scalo. Il PD segnala anche attenzione ai tanti scivoli per portatori di handicap previsti lungo corso garibaldi, non corredati e completati dai relativi attraversamenti. Cambiamo decisamente argomento, come abbiamo annunciato nei titoli, oggi parleremo del carnevale e accanto a me ho il presidente e il vicepresidente della classe 1977, Cristina Rallini e Vincenzo Mertino, benvenuti. Grazie, grazie, noi veniamo con molto piacere da voi. E a noi ci fa piacere ospitarvi. Grazie. Allora, parliamo un po' di questa settimana, come ogni anno la classe è impegnata in una serie di iniziative, di eventi, ecco, qual è il calendario di quest'anno, cosa avete in programma? Allora, il calendario di quest'anno è molto ricco, molto vario, pure per dare un po' di verve a queste giornate di festa. Iniziamo subito con giovedì grasso, l'8 febbraio, per i bambini, quindi bambini in maschera. La novità di quest'anno, dopo l'enorme successo del capodanno, è una tenso struttura nella quale andremo a fare diversi eventi. Prima di tutto ecco i bambini in maschera, in collaborazione con la Giocosa e con la Scuola di Danza a Zucar. Il 10 febbraio staremo per le vie di Pedignano con la Prologo, quindi con il classico carnevale. L'11 staremo ad Orte Scalo con la sfilata dei carri e il 13 ad Orte Paesi per concludere le giornate carnevalesche. Però nella tenso struttura noi vorremmo fare anche qualcosa di nuovo quest'anno, il 10 sabato il veglione di carnevale, perché sono tanti anni che non si fa, quindi vogliamo proporre una novità. Bellissimo, e certamente poi questa tenso struttura ha avuto un grande successo, abbiamo visto nel veglione di Capodanno, quindi insomma avete deciso di replicare anche in questa circostanza l'evento. Con grandi sforzi nostri, però è stato bello, abbiamo ricevuto molte risposte da Orte e dintorni, quindi riproviamo, siamo fiduciosi, siamo. E anche noi con voi. Sì Vincenzo, dicci pure. Infatti come diceva la Presidente, visto il nome successo di Capodanno, abbiamo voluto replicare questa tenso struttura, diciamo così, organizzando il veglione di carnevale. Questo veglione di carnevale sarà strutturato come ormai prassi consolidato voi della classe 77 con una bellissima cena che prevederà un antipasto, un primo, un secondo con contorno e dei dolci finali carnevareschi, ovviamente. Ovviamente è inutile dire ed invitare tutti coloro che partecipano alla cena di venire in maschera, perché all'interno di questa cena ci sarà anche, diciamo così, la premiazione della maschera più bella. Bello! E sarà pure un modo divertente per passare la serata. Tutto questa serata sarà contornata da ottima musica, diciamo così, veramente ricercata, perché siamo sempre alla ricerca di perfezionare al massimo i nostri eventi. Ci puoi anticipare una chicca? Diciamo, allora, l'animazione è gestita da Ricky Piermattei, che è, diciamo così, un noto, diciamo sì, artista del posto. Però io inviterei tutti a partecipare alla nostra serata, perché veramente sarà ricca di sorprese e veramente lasceremo anche questa volta il nostro segno. Sicuramente, sicuramente. Quindi il veglione, ecco, abbiamo detto, prevederà questo. Sì, poi ovviamente, per andare nello specifico, come dicevo prima, la cena prevede, un menù fisso di 25 euro con bevante incluse, proprio per evitare che magari ci siano qualche situazione. Ci sarà anche un menù bambino da 10 euro, così che anche le famiglie potranno partecipare tranquillamente a questa serata di divertimento e ovviamente, visti, diciamo sì, l'enorme successo di Capodanno, chiediamo a tutti una prenotazione anticipata, perché è vero che la tenzostruttura contiene un buon numero di persone, però come è successo… Per predisporre al meglio, diciamo… Per organizzare al meglio la serata, più che altro, perché noi siamo, diciamo sì, un po' liggi al, diciamo sì, tutto al perfezionismo. Come chi ha partecipato a Capodanno ha visto che tutti i tavoli, tutte l'organizzazione fatta ad hoc per 420 persone e quindi comunque noi cercheremo sicuramente di… Di andare, di dare il servizio migliore organizzando tutto al meglio. Allora, vuoi dare delle info, quali numeri sono da chiamare? Allora, il nostro, il numero del comitato è il 334-93-43-162. Si possono collegare sia al WhatsApp che alla nostra pagina Facebook, nonché mandare una mail, alla mail del comitato. Verrete sicuramente ricontattati per, diciamo, si fissare tutte le prenotazioni del diritto. Benissimo. Abbiamo terminato, vuoi aggiungere qualcos'altro? Aggiungiamo un'altra cosa, in questi giorni non lasciamo la tenzostruttura solo per questi due eventi e basta. Abbiamo pensato di rivolgerci anche ai nostri amici di Burraco, quindi sicuramente organizzeremo un torneo di Burraco nuovamente e per finire, a conclusione proprio di questi festeggiamenti, faremo la cena delle classi, che ormai è consolidata negli anni. Anticiperemo la classe 1978 che sarà in carica da giugno. Gireremo poi le locandine a tutti quanti e vi aspettiamo. Grazie a tutti. Grazie a te. Noi ringraziamo comunque Teleradio Orte che ci dà sempre la possibilità di estendere gli inviti a tutta la popolazione. Un piacere e un dovere. Buon lavoro e a risentirci a presto allora. A prestissimo. Grazie, arrivederci. L'Università degli Studi della Tuscia si aggiudica ben sette progetti finanziati con bandi regionali su 11 presentati. Si tratta, ha precisato il Rettore, di bandi su tre misure, aereo spaziale, LIFE 2020 che riguarda salute e benessere e smart building, ovvero l'edilizia sostenibile ed intelligente. Per la nostra università, ha continuato il Rettore, il risultato è eccellente perché prenderemo quasi 700 mila euro. Il Rettore ha tenuto a precisare come questi progetti siano stati realizzati in collaborazione con le imprese che sempre di più si rivolgono all'Ateneo per essere più competitive sia sul mercato nazionale che internazionale. Il Sotterranei di Notre Dame è la nuova pubblicazione di Barbara Frale, un libro che scorre piacevole armonizzando personaggi storici a vicende romanzate. Barbara è qui con noi, è in compagnia di Gianni di Felice, al quale cedo la parola. E parliamo adesso di libri, lo facciamo con Barbara Frale che è qui con noi, grazie di essere intervenuta nel nostro settimanale per parlare di questa nuova fatica che sta dando grandi soddisfazioni, mi sembra che sta andando benissimo sia nelle classifiche ma anche nel gradimento dei lettori. Parliamo dei Sotterranei di Notre Dame, si sa che è un libro che porta anche riferimenti storici ben precisi, cosa dire ancora di più? Sì, è un successo del tutto inatteso, nel senso che di libri magari anche belli se ne scrivono, se ne pubblicano tanti e spesso il caso vuole che rimangano più o meno nascosti e a volte invece succede che un libro venga valorizzato dal pubblico, dagli editori e quindi questa è una sorpresa anche per me, anche perché è un libro denso di storia, è un romanzo in cui in realtà l'etichetta di romanzo è quasi rubata, perché è un saggio in forma romanzata, tutto derivato dalle fonti storiche, quindi io avevo l'idea che un libro in qualche modo così concettoso, così quasi vicino a un manuale di storia medievale potesse essere per pochi eletti o per pochi amatori del genere, invece sembra che sia leggibile e apprezzabile anche da parte di chi insomma la storia non la conosce più di tanto, ma questo clima di misteri di alchimisti e di segreti politici complotti che ruotano intorno alla corte di Francia, alla corte del Louvre, ma anche alla corte di Papa Bonifacio VIII abbia creato un thriller godibile e almeno questi sono i commenti di chi mi scrive. Ecco da qualche parte ho letto che hai fatto una dichiarazione, c'è il 90% di storia e il 10% di fantasia, quindi è vero? Beh diciamo che mi sono tenuta un po' larga nel senso che un grande editore molto famoso lo ha scartato perché non lo considerava un romanzo, cioè lo considerava un saggio, secondo loro non c'era il 90% di storia ma c'era il 98% di storia e quindi il quantitativo di invenzione era nei loro standard troppo poco per poterlo definire romanzo, invece l'altro editore, la Newton Compton, comunque l'ha voluto nonostante appunto fosse più saggio che il romanzo perché è raccontato in modo romanzesco e quindi questo fa appunto immaginare, fa volare l'immaginazione e non infastidisce la lettura. I personaggi ovviamente hanno il loro riferimento storico ma anche i fatti che sono raccontati sono vicini alla storia oppure è lì sulla storia che c'è un po' di romanzo? No, la storia è reale, molto spesso i personaggi dicono ciò che dissero davvero e che noi possiamo leggere nei documenti, c'è la fantasia laddove il documento tace, ci sono dei dettagli che magari non sono documentati con chiarezza, laddove lo storico farebbe una ipotesi il narratore scrive una pagina, ma stiamo parlando però di dettagli minimi. Quindi è una lettura piacevole, abbiamo letto che i commenti di molti prestigiosi critici dicono che si beve tutto in un fiato come ha scritto Corrado Augas, è godibilissimo. Questo è un lavoro che avevi in mente da tanto tempo oppure ti è venuto, l'hai costruito piano piano nel corso degli anni, come nasce questo libro? Nasce dal lavoro di ricerca storica, quindi stiamo parlando di saggistica, sul processo dei Templari, su questo personaggio Filippo il Bello è considerato il grande nemico dei Templari, colui che alla fine riesce a distruggere l'ordine e io sin dall'inizio delle mie ricerche mi chiedevo. Quindi parte da lontano questa intenzione di scriverlo? Sì, la raccolta dei materiali in realtà è cominciata quando ho incominciato a fare ricerca sui Templari, quindi nel 94. Poi però la quantità di materiali raccolti mi ha convinta che c'era veramente un dossier sufficiente per un romanzo storico a partire dal 2010. Le prime cose sono state scritte nel 2010, ma siccome dovrebbe essere perlomeno il primo di una saga gotica, la cosa che ha richiesto tutto questo tempo, quindi dal 2010 al 2018, quando è uscito il volume, è stata la costruzione della struttura, il progetto, perché per scrivere un romanzo ci vuole un po' di tempo, ma per ideare una saga la cosa fondamentale sono appunto le basi, le fondamenta. È un po' come una cattedrale. Una cattedrale non può avere fondamenta leggere, devono essere anche più alte della cattedrale stessa, altrimenti non si regge in piedi. Quindi ho impiegato otto anni con prove, tentativi e tanta carta scritta e mai pubblicata per vedere appunto quale fosse la struttura di questa saga. E alla fine il primo volume è uscito e io spero che magari ci sia la possibilità di pubblicare anche gli altri. Di fare anche un secondo. Ma è più difficile scrivere un saggio o un romanzo? Per me è più difficile. Hai esperienza in entrambi i casi? Per me è più difficile il romanzo, perché io scrivo prima un saggio e poi da lì ci lavoro per fare un romanzo. Perché nel saggio basta avere una scrittura corretta e fluente e raccontare i documenti così come sono e tutto sommato il saggio viene fuori. Nel romanzo no. Il romanzo secondo me deve toccare il cuore di chi legge, deve lasciare un'impressione e almeno io quando ho un buon libro è quello che chiudendo l'ultima pagina dico come sono grata a chi l'ha scritto mi ha fatto trascorrere veramente delle belle ore. Il saggio è un po' più asciutto, un po' più freddo, magari non può aspirare a tanto. Il romanzo ci deve appassionare. Bene, io ti ringrazio di essere stato qui con noi e ovviamente invito poi tutti i nostri telespettatori a leggere i sotterranei di Notre Dame perché è un thriller che affascina, che prende, cattura, fatelo e leggetelo perché dimmi... Un altro elemento di cui non si parla è la storia d'amore, l'amore è un elemento fondamentale... Beh non poteva mancare in un romanzo la storia d'amore... C'è nella storia reale... Addirittura... E sì, assolutamente sì ed è un amore del Medioevo quindi negato, nascosto, che però è molto forte, molto potente e trascina. Quindi un elemento ovviamente sul romanzo l'amore è indispensabile, diciamolo insomma... Parte integrante della natura umana e parte integrante dei fatti reali che sono avvenuti in quel contesto. Bene, ancora grazie a Barbara e ovviamente noi proseguiamo con il nostro TG Magazine. Una condanna e parole durissime per le colpe del fascismo, per le leggi razziali e le persecuzioni degli ebrei e degli oppositori politici, per un regime che non ebbe alcun merito e nel quale la caccia agli ebrei non fu affatto una deviazione, ma fu insita stessa alla natura violenta e intollerante di quel sistema. Nella piena condivisione delle parole del Capo dello Stato, la sezione di Orte dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Tito Bernardini, ucciso dai nazifascisti alle fosse ardeatine, ha celebrato la giornata internazionale della memoria. La cerimonia, patrocinata dal Comune di Orte alla presenza del Sindaco, ha avuto luogo questo pomeriggio nella sala del dopolavoro ferroviario di Orte. Proiettato il film di Brian Percival, Storia di una ladra di libri, l'iniziativa alla quale intervengono partiti e associazioni antifasciste e antirazziste, si inquadra in un percorso di memoria e di cittadinanza attiva che proseguirà durante la prossima settimana con la consegna di una copia della Costituzione agli studenti maggiorenni delle scuole superiori, oltre che con una visita nel mese di marzo degli studenti delle terze medie alle fosse ardeatine. Apriamo ora la pagina di sport e parliamo nello specifico del nuoto. Il 21 gennaio scorso si è svolta a Rieti la terza giornata del trofeo Master Centro Italia. Risultati di rilievo per il team Ortano, in particolare si è distinto Alessandro Rossi che nella categoria Under 17, nei 200 stile libero, si è classificato al secondo posto. Ottimi risultati per il solito Walter Pella che ha ottenuto un primo posto nei 100 farfalla ed un secondo posto nei 200 stile libero. In un'altra categoria Sandro Lo Giudice ha vinto entrambe le sue gare, nello specifico i 200 stile libero e i 100 farfalla, stabilendo in quest'ultima gara il miglior crono assoluto della manifestazione. Infine il più atteso della giornata, Giuseppe Lo Giudice che ha quasi 84 anni continua a partecipare assiduamente a tutti gli impegni agonistici, collezionando medaglie d'oro. Nell'occasione Giuseppe l'ha conquistata nei 50 d'orso, categoria M80. Domenica scorsa è stata la festività di Sant'Antonio Abbate, anche ad Orte ci è stata la benedizione degli animali, vediamo le immagini della nostra redazione. Benedici questo fuoco nella festa di Sant'Antonio Abbate, fa che diventiamo portatori di luce e costruttori di un mondo rinnovato nel tuo amore. Per Cristo, nostro Signore. Grazie. 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 Ora colleghiamoci con il 3bmeteo.com e scopriamo le previsioni meteorologiche. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni in particolare un'occhiata a questo fine settimana che vedrà una zona di bassa pressione spostarsi sul Mediterraneo occidentale ma rimanere bene o male lì, quindi non avanzerà verso l'Italia questo vuol dire che le nostre regioni più occidentali il nord ovest, la Sardegna, il medio alto tirreno avranno sì un sabato ancora piuttosto variabile e instabile con delle precipitazioni ma poi domenica atteso un graduale miglioramento e questa zona di bassa pressione richiama sull'Italia correnti di Scirocco quindi in gran parte delle regioni adriatiche e al sud non solo il tempo sarà bello ma anche con temperature molto miti guardate valori che in tutte le regioni centro-meridionali supereranno i 15 gradi valori molto miti anche sulle regioni di nord-est invece qualche gradi in meno a nord-ovest per effetto di nuvole e precipitazioni con questo è tutto ma per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com Ed ora vediamo la proclamazione del Cine Alberini di Orte di questa settimana il film Jumanji Benvenuti nella Giungla sabato 27 alle 17.30, 21.45, domenica 28, 15.30, 17.45, 21.40 lunedì 29, martedì 30, mercoledì 31 alle 21.40 in questi ultimi tre giorni il costo del biglietto è di 4 euro il TG Magazine termina qui vi ricordo che potete seguirci su TRO, TRO2 e anche nel nostro sito internet www.teleorte.it a seguire l'appuntamento con fatti e commenti arrivederci alla prossima settimana Grazie a tutti